In curia ed abbandono per molte aree della zona industriale della Val di Sangro, il sindaco di Atesa Giulio Borrelli torna sull'argomento. Più volte il problema è stato sollecitato, un problema che di tanto in tanto poi arriva a fatti di cronaca ben noti. Il problema si trascina da parecchi anni, non è un problema recente, ma ogni tanto torna drammaticamente di attualità perché ad esempio all'incrocio di fronte alla Onda, che è una delle aziende di eccellenza qui nella Val di Sangro, in un incrocio davanti alla Onda ci sono stati incidenti mortali, un ultimo non mortale ma grave, c'è stato di recente nei giorni scorsi. E proprio oggi una grande azienda, diciamolo pure la Sevel, mi segnala che ci sono luci all'incrocio dell'ingresso Sevel con la Fondovalle che sono completamente spente, lampioni spenti che creano problemi nel cambio di turno. La notte per i lavoratori della Sevel, qui si lavora su tre turni alla Sevel, cioè manca l'attenzione alle cose gravi e alle cose minute. L'Arap, che è l'azienda regionale addetta alle attività produttive, ci risponde che non ha i soldi per questi lavori e allora noi abbiamo chiesto che sia la regione ad intervenire, lì c'è un problema giuridico che non si può intervenire su un condominio perché si tratta di attività private che l'Arap tutela, ma ci sono altri casi in cui la regione è intervenuta anche con questi aiuti a pioggia che ha dato nell'ultima legge di bilancio. La regione può trovare il modo per intervenire con propri fondi per investimenti che contribuiscono a risolvere anche le varie criticità che sono tante, che vanno dalle strade dissestate allo stesso sfalcio dell'erba, a parcheggi per gli automobilisti, per i camion, per i guidatori di camion che vengono da tutta Europa qui e che non hanno un luogo dove parcheggiare, dove sostare e dove anche rifocillarsi. Lei ha anche ricordato nella nota che ha diffuso alla stampa l'importanza di quest'area industriale. Questa lo sanno tutti, è la zona industriale più importante di tutto l'Abruzzo, qui si produce un terzo del pil di tutta l'Abruzzo e qui ci sono, soprattutto per quanto riguarda l'automotive, ma non solo, ma soprattutto l'automotive, industrie che competono a livello internazionale, basta citare la Honda che dicevo prima, la Sevele, tutto l'indotto che c'è dietro. Tra l'altro queste aziende pagano i contributi all'Arap, all'azienda regionale e si aspettano giustamente anche un minimo di attenzione, di cura alle manutenzioni ordinarie che adesso sono diventate anche straordinarie da fare.